ed eccola qui la nuova bmw x1 il modello tanto atteso arriva finalmente completamente rinnovato basato adesso sulla piattaforma modulare far del gruppo bmw quindi cresce la lunghezza 4,5 metri cresce la larghezza a 1,84 m cresce l'altezza a 1,64 m mentre il passo di 2,7 metri permette di avere ben 22 mm in più di spazio per i passeggeri posteriori a beneficiare di queste maggiori dimensioni non è soltanto l'abitabilità ma è anche il vano bagagli che va da 540 litri a 1600 abbattendo gli schienali dei sedili posteriori le versioni invece a trazione integrale rinunciano ad un po di capienza parliamo infatti di 500 litri le novità di bmw x1 2022 arrivano soprattutto nel design con questo frontale completamente rivisto i fari anteriori full led con tecnologia matrix presentano una nuova firma luminosa e poi che dire della calandra dalle dimensioni generose però senza gli eccessi visti ad esempio sulla top di gamma x7 il paraurti si fa spigoloso mentre la fiancata dissimula le dimensioni con una linea tutto sommato senza eccessi e le maniglie porta che sono adesso completamente a filo con la carrozzeria cambiamenti importanti anche nel retro dove i fanali adottano una firma luminosa led che abbraccia il 1 8 e si caratterizza per una forte tridimensionalità tanta la tecnologia a bordo della vettura con il nuovo sistema di infotainment doppio schermo ad alta risoluzione 10,25 pollici per il quadro strumenti 10,7 pollici per il sistema di infotainment i drive di ultima generazione basato sul sistema operativo 8 connesso alla rete 5g permette di richiamare in tempo reale informazioni utili come quelle ad esempio sul meteo o sul traffico importante la dotazione a livello di adas guida autonoma di secondo livello non manca davvero nessun sistema parlando di motori bmw x1 offre un'alimentazione per ogni esigenza confermato il cambio automatico steptronic doppia frizione 7 rapporti abbiamo quindi una s drive 18 i e una s drive 18 di rispettivamente un 1.5 turbo benzina tre cilindri da 136 cavalli mentre nel caso della motorizzazione diesel abbiamo un 2.0 turbo diesel quattro cilindri da 150 cavalli parlando invece delle varianti elettrificate mild hybrid a 48 volt con trazione integrale x drive e quindi parliamo della x drive 23i con un 4 cilindri turbo benzina da 218 cavalli e della x drive 23 di con un 4 cilindri turbo diesel da 211 cavalli che saranno affiancati già dal prossimo mese di novembre 2022 dalla s drive 20i la declinazione più performante con 170 cavalli di potenza sulle ruote posteriori mentre invece nel caso della x drive 20 di avremo sostanzialmente 163 cavalli di potenza e trazione invece a quattro ruote motrici presenti poi due versioni ibride plug in con la sua attrazione integrale dotate di batteria litio da 14,2 kilowatt ora che è possibile ricaricare a 7,4 kilowatt con un aumento importante di potenza di ricarica rispetto ai 3,7 kilowatt accettati dal precedente sistema la x drive 25 e combina quindi il propulsore tre cilindri turbo benzina della 18i quindi 136 cavalli 230 newton per metro di coppia ad una unità elettrica da 109 cavalli per una potenza complessiva di sistema di 245 cavalli e 477 newton per metro di coppia e promette fino a 92 chilometri di autonomia in solo elettrico senza accendere neanche per un secondino il motore termico ovviamente si tratta di dati nel ciclo di omologazione vuole tp e invece la x drive 30 e motore quattro cilindri turbo benzina 150 cavalli raggiunge prestazioni interessanti perché saliamo a 326 cavalli 1 0 100 in 5,6 secondi scende però l'autonomia in solo elettrico a 88 chilometri il bmw non ha ancora annunciato gli allestimenti della x1 sul mercato italiano non ha ancora annunciato i prezzi della x1 sul mercato italiano ovviamente di tutti questi aspetti vi andremo ad aggiornare attraverso il blog di autoprove.it